All Might, ma perché dobbiamo allenarci così tanto? Perché in ogni anime da combattimento ci stanno sempre gli allenamenti del protagonista. Ma cosa hai alla voce? Basta domande e fila ad allenarti con la colonna sonora di Rocky. Eccoci finalmente alla UA! Sono così infelice! Stai tranquillo Deku di merda, non farai amicizia con nessuno. Infatti io mio caro Kachamparo, caricizia! Dannato Deku, te le tue battute nel cazzo! Non vedo l'ora di arrivò! Questa ragazza stupenda mi ha salvato! Non vedo l'ora di sentire la sua voce angelica! Caro, non correre rischi di farti male! Che cazzo li ha segnati i ruoli? Beccati questo Deku di merda! Bene ragazzi! Oggi siete qui per accedere alla UA! Spero che riusciate tutti quanti e che nessuno si faccia male! Signor Mike, sono della polizia di Tokyo. La dichiaro ora in arresto per uso e detenzione di cocaina. Non hai prove del fatto che io sia strafatto? Ehi, ce l'hai la mia dose? Certo Mike, ma rilassati o ti farà male prenderne troppa! Non sei tu a darmi ordini! Pronti ragazzi? Avete tutti la possibilità di entrare in una scuola di supereroi? Tutto ciò mi ricorda Sky High! Sì, è vero, sai, anche a me ricorda Sky High! Ragazzi, non siamo in Sky High! Cazzo, hanno scoperto il plagio! E tu chi dovresti essere? Il bici più dietro della serie! E il schere! Ho una voglia amata di sentirmi la Dark Polo Gang! E di farmi i risvoltini! Aiuto! Il mio cazzo si è incastrato sotto le macerie! Che schifo! Salvati da sola! Oh no! A quanto pare tocca a me salvarla! Dopotutto lei mi ha salvato da... Oh, diamine! Devo assolutamente imparare a sfruttare il mio potere nel momento del bisogno come tutti gli anime! Eurospin... Smash! A causa dell'appartenenza dello sceneggiatore all'ISIS, gli stati americani sono stati sostituiti da marche di supermercati presenti in Italia. Ci scusiamo per il disagio. Oh no! Il ragazzo che ho salvato prima sta per cadere! Non ho alcuna intenzione di masturbarmi su Bakugo! Che è successo? Dove sono? Qui la ragazza! Avanzi una ragazza, smettila di ridere! Ok, ok... Ti ha salvato! Dovresti però evitare di rischiare la vita per il primo trance che ti capita a tiro! Hai capito la lezione, Zuko? Certamente, mamma! Non devo più salvare nessuno! Ma no! È che non ti devi fidare dei siti in cui ti propongono l'allungamento del pene! E tu cosa ne sai, mamma? Fidati, figliolo! Lo so! Wow! Mi avranno presa la UAE? Certo che no! Ma visto che sei il protagonista, ce l'hai fatta! Congratulazioni! Sìììììììììììììììììì! Grazie a tutti.